Pacifica è organizzata contestazione a Herman Van Rompuy, all'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, dove il Presidente del Consiglio Europeo è intervenuto all'inaugurazione dell'anno accademico. Alcuni giovani hanno esposto cartelli con scritto Democracy, raccogliendo applausi. I contestatori hanno dichiarato di inserirsi nella protesta degli indignados e fanno parte del collettivo Prezzemolo, formato da ricercatori e studenti. Continuando a esporre cartelli, hanno chiesto di parlare durante l'intervento di Van Rompuy, intonando il coro Let us speak. Uno di loro poi è riuscito a leggere un messaggio. Gli europei stanno lottando per vivere, lavorare e in molti casi semplicemente sopravvivere. Una straordinaria e ingiusta condizione affligge i cittadini europei, ha detto. La protesta simbolica si è conclusa con il lancio dalle finestre di volantini dedicati alle 95 tesi, che facendo la parodia di quelle di Martin Lutero avrebbero rovinato l'Europa.